ciao amici buona vigilia domani è natale e io vi aspetto tutti per farvi gli auguri in diretta live ci vediamo a mezzogiorno sul mio canale di youtube per scambiarci gli auguri tanti baci intanto buona giornata a domani vi aspetto ciao e ci sarà anche lui super squaletto per gli auguri di natale ciao grazie